buongiorno ragazzi voglio fare un gioco voi non mi conoscete ma io io vi conosco forse vi state chiedendo che cosa state facendo su questo sedile a volte vi guardo durante la lezione durante la classe certe volte per tutto il giorno siete la testa nelle nuvole passivi per molti di voi vi vedo aspettare con impazienza che suoni la campanella pensate solo a giocare quindi oggi io vi farò giocare vorrei augurare a tutti voi un caloroso benvenuto il gioco a cui vi siete iscritti è diverso da qualsiasi altro gioco di cui prosperate troppo spesso videogiochi cellulari social network qui dimenticate tutto quello che sapete perché dovrete prendere il tempo che è prezioso non avere troppa fretta spero che questo gioco vi porti finalmente fuori dalla vostra oscurità virtuale in questo gioco si è da soli ognuno per conto suo il silenzio assoluto deve essere la regola non cercare di fare accordi con i vostri colleghi ascoltate bene queste regole perché la prima trasgressione io la vedrò lo saprò sarete eliminati queste regole sono semplici quindi applicatele giocare riflettere dovete scegliere grazie a tutti Grazie a tutti